mi piacciono i registi che hanno idee particolari e non che siano sempre come dire rutinari sempre cliché sempre perché anche la stessa storia in realtà può essere trattata in milioni di modi differenti in base sia al personaggio che alla regia che all'attore stesso e un regista secondo me deve accompagnare l'attore